Larry's Bar di Firenze ha fatto il bis con un nuovo locale nella cornice del giardino con piscina del Sina Villa Medici, lo storico albergo al 42 di Via Il Prato. Non solo American Bar e non solo ristorante di lusso, Larry's Bar Garden ospita infatti anche eventi, celebrazioni e shooting e qui il vice direttore Thomas Martini ci mostra come allestito per il Natale 2022. Grazie per la visione!